Obiettivo maschio, dieci consigli per aspiranti sedutrici, vecchia malgasciona. Allora, se vuoi avere dei consigli per diventare una seduttrice, devi seguire quello che ti dico. Allora, primo consiglio è importante che una seduttrice abbia un abbigliamento anche intimo, doc. Dimentica il mesto completino, spaiato, buttalo nel cesso e punta su una lingerie sexy e raffinata che possa essere, diciamo, piacevole e sensuale anche al tatto. Il colpo d'occhio, da questo punto di vista, tenendo conto che l'uomo è visivo, è molto molto importante. Quindi questo è fondamentale. Secondo punto, devi tenere presente che devi essere sempre al meglio, capelli, mani è fondamentale. I tacchi devi portarli sempre per abituati a camminare, non una volta ogni tanto, tacco 10, tacco 12 e impara a camminarci sopra. Il make-up non deve essere da puttano nella corsa, il quarto consiglio, ma deve essere un make-up fatto bene, intrigante e soft. Poi, diciamo, devi anche pensare a crearti un ambiente dove eventualmente poter ricevere un uomo che sia un ambiente accogliente, ma anche proprio per te, per riuscire a vivere bene, insomma, dentro a questo ambiente. E poi, terza cosa, pensa che il primo, sì, più di sesta cosa, siamo arrivati a sesta cosa. Sesta cosa, devi tenere presente un fatto fondamentale che il principio azzurro non esiste e devi imparare a sedurre il maschio. Settima cosa, non chiederti mai perché non va bene per lui. Chiediti soprattutto perché lui non va bene per te. Ottava cosa, scarta a priori uomini come il mammone, il negazionista, quello double face, il Peter Pan, questi vanno scartati. Nona cosa, comunque sia, devi pensare che tu sei la persona più importante del mondo. E ultima cosa, tienilo sulle spine, perché soltanto se lo attrai e puoi se lo tienilo sulle spine, riuscirai a sedurlo. Seguimi su Instagram, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ciao a tutti.